Uno dei fattori abilitanti di una strategia legata all'Artificial Intelligence è senza dubbio la capacità di visione, di strategia strutturata, questo oggi solo poche aziende l'hanno effettuato e cosa vuol dire avere una strategia? Vuol dire lavorare su tre assi, il primo è il cosa, quali sono i modelli di business che saranno cambiati, quali sono i prodotti e i servizi che verranno portati sul mercato, il secondo è il come, quali sono le leve, i fattori abilitanti come l'organizzazione, la tecnologia, gli investimenti e il terzo è il quando, qual è il percorso temporale di evoluzione, quindi la roadmap. Grazie